Toleranza, dialogo religioso e il ruolo delle donne nel progresso del paese. Sono i denominatori comuni del discorso tenuto dall'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Omar Al-Shamsi, per il 48esimo anniversario della festa nazionale, che celebra l'unificazione dei sette Emirati avvenuta nel 1971. Al-Shamsi ha ricordato che la leadership ha dichiarato il 2019 come l'anno della tolleranza, per rimarcare il fatto che nel paese convivano più di 200 diverse nazionalità in un'atmosfera di apertura, rispetto reciproco e coesistenza, basata sul principio della tolleranza. Viene così raccolta la visione del padre fondatore degli Emirati Arabi, lo sheikko Zayed. Il migliore esempio di questa tolleranza, rimarca l'ambasciatore, è la visita di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta della prima visita di un pontefice nella penisola arabica, durante la quale è stato firmato un documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune con il grande imam di Al-Azhar. Al-Shamsi ha sottolineato che gli Emirati credono che una società di successo e progresso possa essere raggiunta solo dando forza alle donne e garantendo la loro piena partecipazione alla costruzione del paese. Il diplomatico emiratino ha rimarcato che un terzo del governo degli Emirati Arabi Uniti è composto da donne. Le donne rappresentano la maggioranza della forza lavoro nel nostro servizio pubblico e dei nostri laureati, ha dichiarato. La rappresentanza delle donne nel Consiglio Nazionale Federale è ora del 50%. Al-Shamsi ha infine ricordato che a Matera, il 20 ottobre, è partito il conto alla rovescia per l'inizio di Expo Dubai 2020, evento globale che conferma la capacità della nazione di connettere e ispirare milioni di persone in tutto il mondo al fine di celebrare il progresso umano, risolvere sfide globali e creare un futuro migliore. Ci teneva ad esserci oggi per fare gli auguri agli Emirati per la loro festa. Vorrei soprattutto sottolineare due aspetti che mi hanno molto colpito anche nel discorso che ha fatto l'ambasciatore. Il tema della tolleranza, dove ha ricordato l'importanza della visita di Papa Francesco e come questo messaggio sia fondamentale oggi in un mondo di fondamentalismi e dove purtroppo l'odio può portare a distruzione anche l'odio religioso. E poi questo messaggio sul credere nelle donne. Un terzo dei ministri degli Emirati sono donne. Questo è un segnale di apertura molto importante che spero possa fare scuola nel mondo arabo. e quindi sostengo con decisione queste aperture e queste scelte degli Emirati.